Sarà un evento fighissimo che ti farà crescere, oltre al gioco ti daremo importanti emozioni alimentari, oltre alla psicologia dello sport. Ti regaleremo un pezzetto di felicità. Per tuo figlio e la tua famiglia abbiamo la solestione giusta, ci divertiremo tanto insieme. Saremo in un posto tranquillo e sicuro, in river mare e sulla spiaggia, avrà tutto bene, non mancare. Ci vediamo di aria, regia Maria. Se voi ci siete, noi ci siamo. Beach Tennis Family. Ciao. 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 Ciao.